amiche e amici vorrei ringraziare di cuore tutti gli infermieri italiani con i medici con gli operatori sanitari nei nostri ospedali stanno salvando le vite di tutti noi rischiando la loro vita ogni giorno e mettendo a repentaglio la vita poi dei loro cari ogni volta che tornano a casa grazie di cuore siete i nostri eroi sicuramente tutto ciò finirà presto noi dobbiamo rimanere a casa è fondamentale per aiutare proprio il loro operato per aiutare le gesta quotidiane che loro compiono grazie di cuore e vedrete andrà tutto bene